ME L'HO PREVUTO ACCETTA Sì, sì Eeeh Perché io dicevo così E allora perché non c'è scritto Xyc Non l'ho accettato Eeeh Perché tu non fai parte di questa Gary, tu sei... tu sei una 2000, quindi... Mmm, che bello, la do a tutti, anche al mio cane Non si fa leccare Se la fa leccare del cane Eh, ti hanno stilato la top Ci commetti? Oh Oh, Morgana mid Nooo Io vado in jungle Ma perché quando resisto io devo sempre andare in support, oh? C'è l'app Vabbè, vai con Ari, vai con Ari Di nuovo Craffa No, raga, avete capito che hanno fatto Hanno preso tipo troppi Tahm Kench E si sono mangiati a vicenda Ma guarda che la one for all sta per Arriba Oppure usa Ziz No, no, Craffa, oh, cosa vai con Bay in jungle che sta tenerfata, oh? Appunto E ogni quattro attacchi E ogni quattro attacchi, Craffa! No, no, no Shut up, l'ultimo voto ha cariato, stai zitto Va bene Va bene Va bene Va bene L'hai scelto tu Io vado così Nooo Che support gioca può credere usare Non mi sfidare Almedin No, dai, stavo per frete Disco lunu Disco lunu Disco lunu Non mi sono tu evocatore Che capolavoro ascolteremo Piccoli sin e tutti si stanno zitti Crabba E perchè tanto non sei magic Aspettavamo i commentari di magic Ti puoi dire Oh, come ti prometti Marò Oh, l'ha detto Oh, oh, oh C'è la skin di Diana in sconto Davvero? Lunar goddess Diana E' lì della luna Oddio Può che comprarla Però devo risparmiare Ma per Rally Sallanzer Che fare? Costa 487 Ah, questo Te la regalo io, tranquillo Oh, grazie Grazie Alvex Te la regalo io, cheat No, basta Io faccio il remix teso Ma anche nell'ultimo video Che ho caricato All'inizio del video C'è tipo un urletto Che faccio? Te la regalo io Ciari, metti il volume sulle casse E sentiamolo tutti No, non posso Altrimenti mi è entrato La polizia No, per cosa? No, per... Chimoziena Immaginate Entra tipo la mamma di Ciari Stai guardando un porno? Mamma, posso guardare un nentai? Che cos'è un nentai? Un porno giapponese Ah, eh Xinco, tu ti devi... Ci devi... Spero che mi lasciate andare con Alissa Ah, porta a destra Oh, spamma il mio video è dentro un mio video Ma stai, mi stai andando Oh, raga, raga È uscito il Champions Spotlight di Quinter Raga è uscito Comani è? Io vado a FK perché è uscito Quinter No, no, no Che cazzo fai? Era un progetto Ragazzi 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 Xinco E sui urletti mascolini Oh, Xinco, fatti inculare Ma che altro video è dead? Vaffan cul Ma io adesso vado a a Questo che scrive è hi io scrivo slash all say hi to questo è falso raga però veramente l'hanno messo vedete da campioni oddio raga dopo compro raga dopo compro kindred vado di carri e xinco registri ma cos ti vado con ari support vediamo chi fa sorrendere prima adesso si ritrovano 5 almex si trova almex si stanno attaccando almex si stanno stuprando almex ma cosa vuoi? si stuprano allora esce domani allora esce domani oh che cazzo grabbi che cazzo grabbi zinco urgod io sto morendo sciacco che non invade ma che cazzo nemmeno io invado oramai sai più usare sciacco hai detto te vabbè a parte quello come non lo sai più usare così ti sei svegliato la mattina non hai fatto colazione non hai fatto la sega del mezzogiorno e non lo sai più usare sciacco che cazzo ooooooo xinco ma cosa io sono puro per questo missai charm gioca lol solo col mouse set it fatti curare fatti culale ok via due flash adesso faccio un bel minsec attenzione no non faccio danno tipo questo vuoi sicuro di voler rischiare le dita vuoi avere un blitzcrank ok la è attiva non so usare tf ma ovvio non solo lo so usare a questi a questo oh 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 vai 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 che ti fumi ma che è? il video non avete mandato voi vedete lui che non vuole vuol dire le scuole a giocciare il bello le scuole porco tutto di tastiera dai ci muori? lui bacca raga ma che è sto ecco? eh aggiorno sai che ti ti chiotta jinx ma ti protto la mamma ma tuo padre mi è sciotta oh ma che significa prot vaffanculo 5 eh vado a dargli la double se ci muovi tu dai continuo a focussare te dai ti sto attancando i minion ovviamente questo qua sta muorendo eh non posso era già nel range della torre non potevo farsi nulla le famose gank di veigar vabbè veigarmi in skillshot ma appunto tutti così li sto doggiando no no ma se vengo bot ma vuoi non è a te almen ah questi diglet ah questi diglet cosa cazzo arriva lì sì se lo spugni è morto ah c'è sciacco oh oh ah ma trafa tu ah sei tu lì sì e perchè che pensavo eh pensavo che era l'unico non con noi ma che ti sto dicendo da mezz'ora se lo spugni ti ganko eh vabbè tranquillo no scusa ho capito male beh dai ha flashato non ha flashato ha flashato ah una fia oh ah 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 è worth è mi worth questa quanto mi manca raga abbiamo appena cominciato ma vedi che fate schifo allora eh 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 fa un culo fa un culo ma questo urgo oh l'ho preso madonna questo urgo ti infermali lui aspetta com'è che hai uscito jinx che non ho visto è più cazzo sciacco e vabbè ce ne andiamo che io sono senza mana magari ma tu vattene ma chi ti vuole ma ti ho fatto fa ma va fa quello va il report media di carry c'ho 8 assist o a 12 minuti mi dispiace che non ti ho preso l'assist no no tranquillo la mia cucchia bastardo forma ultimate o tipo riven che ha sempre l'ulti attiva c'hai che spamma le skill per caricarsi la goccia l'ho usato una volta mi è capitato oh potrebbe anche velocità di movimento ma scusa voi che ti prendo la culo no si ha fatto una piace però eh ma fa cazzo se lo stimnavo però ho cannato la carta raffasori ho cannato la carta guardalo quanto cooldown saio ehhh 1.1 ok madonna ma che scudano il suono parliamone oddio chari sei morto caro amico chari lox appunto ma 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 ehm 4 kill 3 kill no ma non mi facevo accalci tanti amore comattici dal qui non potevo quasi finito la manamore porco 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 e lascia e gli altri scusa ci salutato ci sono tato io ho detto io non avevo visto gli altri sono andato tutto così tranquillo altare vega non avevo visto che c'erano anche sciocco e ci stavi morendo amico se fossi vivo io invece pensavo di riuscire a killare vega perché non aveva la Q non aveva manco la ulti guardate qua questo è una gradable per te ma perché quella ulti c'è arriva? eh mi da resistenza dai sorrenda da solo il giro no forte sali forte sali forte sali ovvio WTF come ho fatto? cosa? no cosa erano quei danni di fiora? wow 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 tu giochi dopo? si ok 3 4 c'è il tp c'è il tpo arriva vega eeeh saremo ma vaffanculo allora pure te sei stupido eh la cometa no 8 secondi 8 secondi 7 6 vabbè oh ma che cazzo 8 8 8 alla cosa alla ward per finire 5 vabbè guarda quest'altro raga perché non follow wadeciari eh? perché vi sto parlando tutti 5 ulta di sotto tuone che non c'è vita vabbè ma che è stato usato allora? vanno i lì e lì e lì e lì ooooh vabbè 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 i danni i danni i danni ehhh a me si muore 5 5 sono sono non ti fai schifo qualcuno mi qualcuno mi dica perché quando io con blizzcrank faccio grab sono identi 5 non li grabbo però quando lo fanno gli altri ovviamente vengo sempre grabbato tato ovvio che ti grabbo a blizzcrank fanculo blizzcrank che morisse bene povero povero papi bixi stai registrando? bravo no nel senso ma co ma era nel range che cazzo dite è andato a fanculo arrivo di ulti? a la car ovviamente era più vicino alla torretta però ovviamente cosa cosa focusse la mia co e meno che sono dietro cava ho preso in considerazione che il tagliarti delle corde vocali permita a fare altamente le son della tua voce è troppo stitula ma ma la fastidio ma vabbè è forte che blizzcrank arriva dai sorrendiamo andavo io a giocare ragazze guardate i big damage e che li faccio no ma si vede che cazzo vai oh che cazzo vai oh cari cosa e trappa ecco e cazzo fa culo fa culo c'è di quanto tempo aveva rimasto in trattamento BIS PLEASE nooo gli tiravo una carta era mia BIS PLEASE ragazzi sona stanno a fare il break cari usa la tua ulti globale report Urgot for not using ma perchè è una ulti globale quella di Urgot 4-7 9 kill 9 kill lo scroll urgot quante sa quattro risicuro 14-7 sta 14-7 14-7 cappa oh porchi 1434 di danno quanto 1.300 di danno oh io appena respawno faccio il backdoor vai Frank vuole s'ammarco uuuuuuuu ha un culo BIS PLEASE 5 noo noo quanto voglio quando mi si vaga al client mi fa spettare una partita noo eh non ce l'ho avuto carino questa cosa la fa solo a mio o pure a voi in Italia anche a me a me male anche a mio zio anche a mio padre anche a mio padre e la terra è infitta mamma mia cron eh cron chi è che mi toglie il noboc e che mi toglie il noboc il più il più è il più è il più Grazie a tutti.